Sono due passeggeri risultati positivi al covid da Londra sul volo atterrato all'aeroporto d'Abruzzo. L'esito è venuto fuori dal risultato dei tamponi, lo conferme il dottore Ildo Polidoro, responsabile dell'unità operativa complessa dell'ASL di Pescara di Medicina Legale, che assieme all'ASL di Chieti sta effettuando i tamponi su base volontaria nello scalo abruzzese, secondo un'ordinanza della Regione sui passeggeri provenienti da Malta, Spagna con Girona e Londra. Il protocollo è quello chiaramente che prevede il tracciamento dei positivi e dei contatti stretti dei positivi. Per contatti stretti nei voli aerei, ma comunque in ogni mezzo di trasporto, anche per i treni, vengono considerati contatti stretti i passeggeri che occupano due file avanti, due file dietro, due file di lato, comunque due file in ogni direzione rispetto alla posizione occupata dal passeggero risultato positivo. È chiaro che questi, come prassi e come norma per qualsiasi cittadino, anche residente in Italia, viene posto in isolamento il caso positivo in quarantena per dieci giorni, il contatto stretto con tampone al termine della quarantena, cioè dei dieci giorni. E questa è la procedura seguita normalmente per i voli che chiaramente provengono, secondo l'ordinanza regionale, da Malta, Spagna e Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Per questo ci è stata posta attenzione perché purtroppo l'andamento pandemico non è rassicurante in quelle zone. Nella libera circolazione per l'area Schengen è prevista il certificato verde. Per quanto riguarda l'approccio dei passeggeri, diciamo che c'è una buona risposta. È chiaro che le domande sono tante all'arrivo in aeroporto. Si sta diffondendo, e mi piace che lei sigmatizzi questa cosa, una situazione che magari i passeggeri sull'aereo si possano mettere d'accordo e dire che quando scendiamo noi non vogliamo fare tamponi, in modo che non siamo costretti a un'eventuale quarantena. Lei cosa dice? Beh, certo, questo è possibile. È possibile e anzi, non solo per i passeggeri degli aerei, ma stiamo riscontrando proprio nel tracciamento, come la possiamo definire, una sorta di omertà riguardo a quelli che sono i contatti stretti. È chiaro che, come dicevo, questa sorta di omertà non aiuta il tracciamento, ma soprattutto non aiuta la nostra nazione a liberarsi di questa aggressione virale. Per quanto riguarda la possibilità di mettersi d'accordo sull'aereo, beh, certo, è una possibilità questa. Però noi cerchiamo, e ripeto, lo dicevo prima, il personale che va in aeroporto è anche, come dire, abituato e addestrato a vincere questa resistenza. E tenga conto che poi, però, questa resistenza nel più dei casi è vinta. Ma, precisa Polidoro, per i paesi non Schengen, dunque Gran Bretagna, Irlanda del Nord, in questo caso i passeggeri da Londra, vanno comunque in quarantena per cinque giorni. Vanno in quarantena per cinque giorni con obbligo del tampone al termine della quarantena di cinque giorni. Grazie a tutti.